Prenderanno il via novembre i corsi organizzati dall'Università del Volontariato, un'iniziativa promossa dal CSV che propone diverse offerte formative culturali a volontari, associazioni, operatori e cittadini di Milano e provincia. 1.164 corsi per 18.615 ore di formazione a oltre 20.000 partecipanti. Dopo 15 anni di esperienza nella formazione di volontari e dirigenti del volontariato nella provincia di Milano, CSV promuove l'Università del Volontariato. Fare volontariato oggi non vuol dire solo avere disponibilità e buon cuore ma serve anche competenza, capacità di leggere le situazioni del territorio, organizzarsi per dare una risposta, saper lavorare in rete, gestire delle persone, insomma comunque servono delle competenze che si possono acquisire anche insieme agli altri in un contesto formativo strutturato. Il percorso universitario si rivolge a volontari e dirigenti con moduli differenziati fino al conseguimento al termine dell'anno accademico del diploma dell'Università del Volontariato. Nell'Università del Volontariato noi portiamo le persone ad avere un diploma, che è un diploma riconoscibile nel mondo del volontariato evidentemente. Chiediamo un percorso che è strutturato, quindi le persone devono riuscire ad acquisire 60 crediti formativi che vengono dati dalla frequentazione di tre corsi obbligatori, tre corsi specialistici, una serata culturale o convegno e un tirocinio finale in cui sperimentare gli apprendimenti fatti durante i corsi. Ci sarà un numero chiuso? Per questo primo anno seguiamo una classe di 20-25 persone, proprio perché garantiamo ad ognuno delle persone iscritte un tutor che la segua per tutto il percorso e quindi la faciliti anche nelle esercitazioni, negli eventuali approfondimenti che la segua nel tirocinio. Dall'anno prossimo a esperienze riuscite evidentemente apriremo a tutti. Ciò non toglie però che tutti i corsi di CSV, quelli che verranno proposti nell'Università del Volontariato, saranno anche aperti a tutti.